Chi è lei? Che fa qui? Non sa che questo parco è mio? Come è entrata? Io non voglio nessuno. Ah, ride di me. No, ridevo per il libro. Scusami, sai, ma credevo che il castello fosse disabitato. Era sempre chiuso. Sei il tuo del Col de Tragli? Sì, Brunello Tragli. Siamo arrivati ieri dalla Francia. E tu come ti chiami? Niccoletta. Tu abiti qui vicino, vero? Resterei molto? Tutta l'estate, e tu? Non so, nessuno sa niente, neanche papà. Dipende dalla chance, dici. Può anche darsi carino e mia mamma. E allora sono fritto. Chi sa come mi porteranno. Qui invece mi piace stare perché ho fatto amicizie con Orlando. Vedi, senti che stavo parlando di lui. Ti piace? Ha tre anni. Papà dice che è cattivo, ma non è vero, è perché vuol bello. Vogliamo diventare amici? Certo, ci rivedremo. Quando sarai sola ti terrò a compagnia. Posso darti un cavallo? Grazie, vero volentieri. Quanti anni hai? Dodici anni compiuti a maggio. E tu? Diciotto. Hai già lì lavorato? Ma certo che ce l'ho lì innamorata. Vuoi? Ma come, fumi di già? No, non fumo, ma mi piace tenerle. Mio padre ne ha tanti di questi. Mio padre fuma molto, fuma anche i sigari. È molto buona, grazie. Ah, prendili ancora. Anzi, te le regalo tutte. No, 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 no. Sei troppo gentile. Curioso. Un momento fa mi volevi cacciar via. Non ti conoscevo. Mi perdoni. Signorina Nicoletta, volevo dirti, vieni quando vuoi in questo giardino.